Musica Il ritiro di tutte le forze armate americane dalle basi militari in Italia, dall'Europa e dal Medio Oriente La fine di qualsiasi tipo di sostegno dell'Italia alle azioni terroristiche in Siria e tentativi di destabilizzazione del paese da parte della Nato Le dimissioni dei politici italiani serbili della Nato La Libia della Giavairia, la Libia socialista, la Libia come ha detto chi mi ha preceduto della solidarietà e del progresso civile anche come per le donne La Libia sta rialzando la testa, ieri 14 è iniziato un'insurrezione generale Guardo con un occhio d'orrore, gente che è capace di fare le torture più infami, più schifose sul loro stesso mondo Grazie